renault incontra la moda e nasce così renault clio moschino frutto della collaborazione con il noto marchio milanese noi morivamo nella voglia di conoscerla e quindi l'abbiamo portata in studio siete curiosi anche voi grazie elisa per la linea è un saluto anche da parte mia do subito il benvenuto al nostro ospite un saluto a francesco fontana giusti direttore relazioni esterne di renault italia buonasera grazie essere qui con noi buonasera a tutti ecco il tema di questa intervista prima di salutarci e augurare il buon natale è quello delle personalizzazioni perché abbiamo qua in studio una renault clio moschino e già il nome come dire rappresenta in pieno quella che è la mission da questo punto di vista dire no e direi anche il richiamo forte no tra il mondo dell'auto più in generale e quello della moda che devo dire che in ultimi anni è sempre più come dire legato il legame tra clio e la moda risale al 2014 quando ricorderai abbiamo fatto la clio costume nazionale che ebbe un gran successo poi abbiamo lavorato nel 2015 con l'istituto marangoni per creare la nostra propria collection e poi fino al 2018 con 2017 possiamo dire anche con moschino perché nel fine 2017 abbiamo lanciato uno spot pubblicitario nel quale la promozione era sulla clio duel e c'erano due personaggi un uomo una donna che erano vestiti con dei vestiti di moschino e che appunto erano acquistabili sul con shazam poi nel a febbraio abbiamo fatto con jeremy scott ha presentato durante la sua sfilata appunto una show car decisamente molto molto particolare difficile da vendere e poi da settembre abbiamo presentato questa questa qui che vediamo in studio ecco tanto una parentesi sul brand moschino brand chiaramente italiano origini milanesi che è stato capace nel tempo di imporsi anche a livello internazionale un marchio fondamentale ed era importante che due marchi leader si unissero che io ricordo essere l'auto straniera più venduta in italia parliamo di 280 mila che io vendute parlo della quarta versione che io 4 che è stata lanciata nel 2012 e dunque era importante legarsi a un marchio di moda leader come moschino è una scelta come dire che è mirata da parte delle aziende costruttrici quella di legarsi a delle aziende in grado di regalare qualcosa in più oppure solo un'opportunità per così dire di marketing due due motivi primo è che la moda riesce a tirare sul prodotto come immagine e lo abbiamo visto anche il target dei nostri clienti cleo si è molto ringiovanito vuol dire che ha funzionato e poi l'altra cosa è chiaramente bisogna animare le nostre vetture animiamo in modo diverso per esempio il capture l'abbiamo fatto con con garage italia questo facciamo con la moda perché la cleo è quella più rappresentativa con le sue forme sinuose il nuovo design di lorenz van den haker molto modaiolo che ha che ha preso con il discorso della moda ecco concentriamoci un attimo su questo modello così particolare studio abbiamo questa renault cleo colore nero credo che questa sia la personalizzazione a partire dal colore che identifichi no questo questo modello e poi a livello estetico che in che cosa si differenzia questa cleo moschino siamo partiti dal black and gold che è un tema molto molto caro a jeremy scott il chief designer di moschino che appunto nero e oro e lo rivediamo sugli specchietti elettrovisori sulla le moda nature laterali sui cerchi e all'interno abitacolo sulle bocchette di aerazione per di più abbiamo il logo moschino sul lato destro e sul volante dunque tanti piccoli dettagli che rendono questa vettura decisamente più fashionable non è solo disponibile con il nero è disponibile anche con altri colori ma questo era il colore più rappresentativo ecco quando nascono questi tipi di collaborazione si dà carta bianca come dire alla casa in questo caso di moda oppure c'è voglio dire una cooperazione tra il vostro cento stile reno e in questo caso moschino allora questo è un progetto 100 per cento italiano siamo partiti da clio auto stranieri più vendute in italia abbinarci un marchio di moda che abbiamo fatto dal 2014 un marchio italiano e poi da lì abbiamo iniziato a lavorare con il tecno son con i designer di ronau che hanno lavorato mano in mano con i designer della di moschino per realizzare questa vettura che come vedi è è commercializzabile la grande novità e qui non so se siamo i soli ma è una cosa molto originale questo partnership con il mondo della moda è totale nel senso come dicevo la che io non si chiama più clio ma che io moschino e parliamo della clio 4 fino all'arrivo della clio 5 ci sarà la clio moschino non più la clio vuol dire che tutti gli allestimenti si chiameranno moschino la macchina non è solo con un look moschino ma si chiamerà moschino ecco tante personalizzazioni con questo allestimento speciale però direi sotto il cofano il cuore pulsante sempre lo stesso della gamma clio che ben conosciamo la clio moschino avrà tutti i motori che sono in gamma oggi peraltro abbiamo provato il tc e da 75 cavalli che un motore che appunto è interessante perché è guidabile neopatentati è in linea con le regolamentazioni dopo gli OLTP dunque quelle di che sono state messe in in azione a settembre è un motore piccolo estremamente performante e con bassi emissioni e bassi bassi consumi dunque veramente un motore di entrata estremamente interessante ecco in chiusura direi uno sguardo i prezzi nel senso questa cooperazione a che livello portano di entrata di costo per la vettura prezzo entrata è di 14 mila 400 euro se non sbaglio sul primo allestimento dunque primo allestimento che si chiama poi moschino e dunque prezzo decisamente interessante per avere lo stesso allestimento sulla station wagon sulla sport bisogna pagare 800 euro in più grazie allora grazie a francesco fontana giusti direttore lo ricordo relazioni stenne di renault italia grazie francesco di essere stato qui con noi grazie a te grazie a voi e un saluto anche da parte mia e buon natale grazie a tutti